è una storia d'amore ma la storia d'amore solo un pretesto perché volevo raccontare il mio paese, il titolo è il titolo ironico, è tratto da una frase di Berlusconi, il paese che amo e quindi ironicamente amo il mio paese perché ne racconto il peggio e per raccontarlo ho voluto scegliere l'amore fra due persone di due classi sociali molto diverse e in realtà l'idea mi è venuta perché non è nato come una storia d'amore questo romanzo ma come una storia d'amicizia, nella mia migliore amica che ha un'osteria che si chiama Tarallucevino e che è citata nel romanzo di Roma e che ha avuto una infanzia completamente diversa dalla mia perché è cresciuta in borgata, perché è cresciuta insieme ai bambini della banda della Magliana che erano dei bambini criminali di Roma, quindi alla stessa età abbiamo avuto dei destini diversi e io innamorandomi della sua vita, della sua osteria, della borgata romana ho deciso che volevo raccontare un contrasto fra due mondi diversi, questo contrasto fra mondi diversi che però si amano e che riescono a amarsi nonostante queste diversità e quindi da qui ho costruito la storia di Olivia e di Valerio e in realtà è ispirata a questa amica Valentina. È una storia d'amore naturalmente di questi da bambini di Olivia e Valerio che crescono insieme, solo che lei è la figlia dei proprietari di questa villa, nasce in provincia a Bologna, è una famiglia molto ricca di costruttori e lui invece è il figlio dei giardiniere, della cameriera, però è convinto di essere borghese anche lui perché vanno all'asilo insieme, fanno tutte le cose insieme e quindi lui finché non viene portato via da quel contesto è convinto di essere anche lui un borghese e invece non lo è e lo scoprirà amaramente dopo e vorrà sempre continuamente cercare di diventarlo, cercare di diventare ricco, in qualche modo Olivia è un suo fantasma per tutta la vita e quindi questo amore è continuamente mancato perché loro si lasciano, si ritrovano nel tempo e quindi dura 40 anni perché li prendo, li ho presi della mia età, ma io questo l'ho scritto due anni fa, l'ho pubblicato in Italia e quindi avevo 40 anni e ho preso delle persone che avevano la mia età, Olivia e Valerio e ho voluto seguirli da quando erano bambini fino ai 40 anni, in tutto loro continuano a mancarsi e all'inizio loro subiscono la storia dell'Italia, poi la fanno loro, tragicamente diventano quella cosa lì, diventano la storia dell'Italia, lui stesso diventa un uomo corrotto che era un idealista, avrebbe voluto essere un magistrato, avrebbe voluto battersi per la giustizia e invece diventa lui per primo un uomo corrotto, lei è un'ereditiera e non riesce a usare queste fortune in nessun modo, poteva usarle in modo intelligente, invece si rovina la vita e basta e nonostante tutto l'unica cosa pura che c'è fra di loro non è nel contesto storico, nel contesto sociale il loro amore, però non do nessuna soddisfazione al lettore sul finale perché non è un romanzo rosa, è un romanzo che ti deve lasciare dell'angoscia, dei dubbi su quello che è il nostro tempo e su quello che è la forza dell'amore che forse non è mai abbastanza, non è abbastanza perché non siamo in grado di cambiare davvero.